Nel pomeriggio del 13 gennaio, presso l'Androne del comune di Nicosia, è stato presentato il libro Il coraggio e l'ardire di Giovanni Macri, vincitore del concorso artistico letterario 200 Nicosia di Ocesi. L'evento è stato realizzato in sinergia con il Rotaract di Nicosia, realtà giovanile molto viva e che sta operando bene in città. Dopo un primo incontro, la mattina con gli studenti dell'Iceo Freli Testa, evento di cui si è parlato anche di sicurezza stradale grazie ad una relazione tenuta da Salvatore Ferro, il pomeriggio con la presentazione del testo il pubblico numeroso ha potuto assistere a quest'ultimo evento che chiude le attività del concorso artistico letterario. A prendere la parola è stato Alen Calò, segretario tra i fondatori del concorso, il quale ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno condotto alla realizzazione di un premio letterario e di 15 giorni di eventi culturali, esperienza che vorrebbe ripetere in collaborazione con le associazioni che hanno aderito alla prima edizione e con quelle che vorranno aderire a questa futura. Subito dopo è seguito l'intervento di Giovanni Carlisi, presidente del Rotaract Club di Nicosia, il quale ha illustrato ai presenti cosa sia e come opera il Rotaract, presentando in anteprima le targhe di benvenuto che il club ha fatto realizzare per apporle all'interno degli ingressi del paese. Luigi D'Alfonso Cottone ha poi introdotto ai presenti l'opera di Macri, leggendo alcuni importanti passi sia del testo presentato ma anche del testo dopo il buio della notte c'è sempre una nuova alba. Testo testimonianza della tenace di Roberta Macri, la figlia dell'autore che dopo un incidente d'auto pur avendo perso l'uso delle gambe non ha demorso e ha portato avanti un messaggio importante per tutti quale la bellezza della vita e la voglia di risollevarsi nonostante gli ostacoli dell'esistenza. Sono seguiti gli interventi sia di Giovanni che di Roberta Macri, ambe due hanno raccontato e testimoniato di questi eventi dando a Nicosia ampi spunti di riflessione e di commozione. Il Rotaract Club di Nicosia ha visto l'alto esempio offerto da Roberta Macri ha deciso di conferirle una targa di nominarla Socia Amica. A fine serata tutti i presenti sono stati invitati a destreggiarsi a bordo di una sedia a rotelle con degli ostacoli che potrebbero sembrare stupidaggini, una rampa o uno scalino, ma che per chi purtroppo non può camminare autonomamente diventano qualcosa di quasi insommortabile con l'implicito invito quindi di provare a fare a di Nicosia una città senza barriere architettoniche. Grazie.